Oggi al mercato io stavo guardando bancarelle più belle del mondo Quanta gente che gira qua attorno senza manco comprare un panino con porchetta Scusi maestro ci metta la crosta ma è già pronta la risposta Ed eccolo qui lo vedi arrivato Stellina Ma che va trovando Stellina E allora tu Dillo Stellina Buongiorno cari telespettatori e bentornati a Dillo Stellina Siamo a Terra in Piazza Martiri c'è il meeting delle 500 Memorial Scipioni Ecco come vedete alle mie spalle tante tipologie di auto modificate non tipo nuovo tipo vecchio Tanti appassionati di questo mito la 500 Vi ricordo i nostri appuntamenti lunedì, martedì, giovedì e sabato alle 19.30 su Super J Canale 16, numero Whatsapp 351 7532450 La mail Dilla Stellina a chioccio superj.it Adesso andiamo a vedere queste macchie Sindaco buongiorno torna il Memorial Scipioni Un appuntamento che mancava e che adesso è tornato in bomba magna Sì, torna in tutto il suo splendore con tanti colori, le 500 Ci è mancato e la nostra piazza ancora una volta torna ad essere teatro di questa bellissima giornata di amicizia Una giornata nel nome delle 500 sperando che le condizioni meteorologiche aiutino Sta cominciando a piovere, però raduno bagnato e raduno fortunato Sempre, sempre raduno fortunato Adesso proseguiranno per la nostra provincia, la nostra meravigliosa provincia Quindi da Teramo, dalla città capoluogo per tutto il territorio provinciale Siamo con Luca Brandiferro, il presidente del Club 500 Teramo Buongiorno Luca, oggi grande evento Il Memorial Viricio Scipioni Sì, buongiorno, ci siamo impegnati anche quest'anno dopo due anni di fermo Grazie anche e soprattutto agli sponsor che ci hanno aiutato Sembra che nonostante il tempo qualche macchina sia arrivata Stiamo aspettando ancora gli equipaggi da più lontano Perché sono venuti San Severino, Pescara, Civitanova, Roseto, Giulianova Qualcuno anche da Roma Siamo positivi, vediamo come proseguire la giornata Poi ci sposteremo da qui per andare verso Cambli Ci fermeremo a Sant'Onofrio per l'aperitivo La porcetta, è da mangiare la porcetta No, mangiamo la porcetta, purtroppo no Quest'anno, l'abbiamo fatta altri anni E poi andremo a Tortoleto, al Camping Village Dove si concluderà la giornata e staremo lì a mangiare insieme Quindi, raduno di 500 e derivati, ma questi derivati ci spieghi che cosa sono Perché io mi sono andato a documentare il derivato Ho visto anche io che c'è un po' di confusione in questa cosa Forse devo mettere il cartelloncino Sono le 126, le 850 Tutte le macchine che derivano poi Perché se apri un dibattito, mi disse Io sono una Punto, ci posso andare? No, no Mi dissi, no, la Punto no No, la Punto no, c'è ragione, no Però poi... L'importante è stare insieme Ci avevo azzeccato io Ci avevo azzeccato pienamente La Punto non mi sembra Non mi sembra il caso Anche perché noi ci teniamo a rispettare le tradizioni di Vinicio Lui aveva questa cosa E penso che anche a colpo d'occhio sia più bello Vedere tutte le 500 piuttosto che un misto di macchine provenienti da ogni dove Ti faccio una domanda difficile La 500 è ancora di moda? La 500 è ancora di moda, ti dirò E infatti lo possiamo vedere perché lì c'è l'Abbart Club Abruzzo Che quest'anno abbiamo coinvolto appunto Che sta a testimoniare Facciamo passare, facciamo passare Vai, vai Ecco da Civitano appunto E dico c'è l'Abbart Club Ecco una derivata Sì esatto, esatto La bianchina C'è l'Abbart Club Abruzzo Le 500 elettriche Che ci hanno portato gentilmente da progetto auto E stanno proprio a testimoniare questa cosa Che sta ritornando in una sorta di moda Perché poi La Tedra no però La Tedra no La Tedra no La Tedra no La Tedra no la mettiamo da parte La Tedra no la faccio No, si è confuso lui Si è confuso Con una 500 Viaggiamo nel tempo Andiamo in riva Al mare Sfrecciamo nel centro In una 500 Noi due soli al mondo La strada ancora lunga Ma stai già ballando Con una 500 Viaggiamo nel tempo Andiamo in riva Al mare Sfrecciamo nel centro La 500 non tramonta mai Si No? Si 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 Io sono un collezionista Ne ho diverse di macchine Però ho due 500 E non le vendono Ce le fai vedere? Quale sono? Si la mia Andiamo a vedere le 500 No ne ho portata una Ah Questa gialla qua originale Bellissima insomma Poi ne ho un'altra che l'ho preparata a Abarth Però è in base di finiture Questa è insomma originale Originale è una L del 72 Del 72 È pulita così Perfetto Colore originale Si 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 Questo è perfetto Perfetto Intanto questo con la tetra Cerca di metterci sotto Questa però non è derivata La tetra La tetra no Non c'entra niente Se viene a farlo gire Eh se viene a farlo gire Dovrebbe arriva pure mio fratello Che porta una R5 GT Turbo Vabbè Già Già Quella è un'antropedia di pratica Sto un momento Dopo io dobbiamo fare una regraza Si si Che anche fia Non guastava Non guastava La tetra no La tetra no Non c'entra niente Io c'è la 500R del 74 Questa bianca Si si Questa bianca cappottina Con la bandiera a scacchi L'arrivo Questa qua Quando l'hai acquistata Ma io ce l'ho Di famiglia No no Dal 2010 l'ho acquistata Perché era appassionato Che da piccolo Mio padre mi portava Con la 500 Quindi dopo Quindi dopo me la sono acquistata Per passione E' ancora di moda la 500R? Beh Per i raduni Sempre piena Pure i giovani Se vedi Già Portano i 500R Cioè Diciamo una varietà Giovani e anziani Quindi si colloca a metà Cioè Sì Sì Ma io vedo che c'hai Il cofano aperto Quindi è truccata No no Quella si faceva Con le macchie Per le prese d'aria Perché siccome il motore E' raffreddato ad aria E quindi per avere Diciamo Più Stabilità Della macchina Diciamo Quindi quello scarico Che c'hai Non è Vabbè Quello ci si No no Quello ci si mette Sembra Quindi qualcosa Buongiorno Quindi qualcosa Non mi sembra Tanto di fabbrica No no Questa è una 500R Di motore Solo la marmitta Un po' Solo la marmitta Un po' rumoroso Un po' rumoroso Vabbè Mi piace a sgasare Sembra ai limiti legge Ah si si La 500 Va veloce come il vento E una copa piccolina Ma in pianura E in collina La 500 Amore mio Sono contento Sali Sali Sopra Non si va Maestro Dimmi Come va La 500 Benissimo Ci abbiamo delle macchine Meravigliose Ci fai vedere la macchina tu? Si Sta qua Noi siamo Il club Stori di Nocciano Nocciano di Pescola Si E niente Oggi siamo a Teramo Tutto a posto Vi fate un bel giretto Si si Almeno rincontriamo Tutti gli amici Di tutti i gruppi Stiamo Eccolo Sta qua La macchina Ancora di moda? Penso di si Penso di si Non lo so Però è una macchina No perché vedo anche tanti giovani che si appassionano a questa macchina che ha fatto la storia Si ma noi più anziani preferiamo la macchina originale Invece la gioventù vuole la marmetta sportiva e il motore un po' più preparato Quindi diciamo che voi siete fedeli a quella che usciva di fabbrica la classica 500 Esatto 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 Ok Un po' stretto perché l'un po' più grossa da noi Eh si Ingegabe No 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 Lo senti voi Invece tu qual è il mezzo? Questa qua Prego Questa qua Questo è un colore che hai fatto tu però Si l'ho comprata così veramente Ah l'hai comprata già così? Si 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 l'ho presa Piaceva e Cioè il cerchietto Il Eh Eh Un po' più sfiziosa diciamo Beh veramente Un regalo che ha fatto mio padre e tutti i figli Ah Perché lui era migrante di Svizzera E quando è tornata il 77 la prima macchina che si è comprata è la 500 Allora siamo tre figli e ne ha fatto uno ciascuno dopo Ah Per il 500 E con la 500 ha iniziato l'attività? Ora te l'apro Vai E fammi capire un po' E quindi questo è tuo Adal? Eh sono sette anni Sette anni Sette anni con i tuoi fratelli Che colore ce l'avete? Eh ci abbiamo un'acqua marina No due acqua marina e questa qua un po' più particolare Ok Le altre sono originali e questa mi ha fatto un po' più sprint Un po' più sprint questo Eh questi ci Quante fa qua? 140 140 140 Velocità La mia è un 500 L Qual è? Qual è? La sua? Del 69 Che colore ce l'hai? È bianca Bianca, classica È una bianca del 69 Il secondo proprietario E ce l'ho dal 72 Complicemente Questa è una delle due Perché pure io ho due figli E ho fatto una 500 per una Una 500 a testa? Esattamente L'altra di che colore è? Un'altra è acqua marina Una 500 R Che l'ho preso tre anni fa L'ho rifatta tutta quanta L'ho portata da Danilo Ortoni A rifarla E mi ha fatto un bel lavoro Quanto costa rifare una 500? La 500 se la ti la fa bene La devi da scorticare Rifarla da sana pianta Riportarla a Virgine E rifarla tutta Quindi fondali Tutto Fondali Pezzi da cambiare Quanto all'ultima Tra comprarle tutta Mi è costato intorno alle 8400 euro Quindi neanche bruscolini Sono cifre No no Però volendo la vinta Adesso pure 10.000 te li danno Se trovi la matura Se trovi la matura Sono macchine particolari Poi bisogna essere Che te voglio dire Uno affiancato con le 500 Certo Certo Ce l'ho da 72 Ah Vale più una 500 diciamo Di fabbrica base O una un po' modificata Beh Quella base Quella originale C'ha più valore Molto più valore Poi se uno ci fa Piene di piccoli ritocchi Non è quello Se tu la stravorci Certo Allora Cambia tutto Cambia tutto Cambia tutto Sotto qualsiasi punto di vista Graziosa vero La 500 si intende Potete guardarla dall'alto in basso E non si sentirà affatto in soggezione È scattante veloce Tiene la strada benissimo Prende pochissimo posto E parcheggiare È facilissimo Appena il tempo di dire Uno Due E il gioco È fatto Piccola sì Ma ci si sta bene In una Due Tre Quattro persone Fox Buongiorno 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 Ma ci chiedevamo tutti no? Sì dica Ma tu non ci chiedi per entrare la 500 No ma infatti No io faccio la scorta A le 500 Ah tu fai la scorta? Perché io ho la 500 Vedi? Può anche inquadrare la 500 Vedi? Ecco allora Vado con i 500 Senti bo Ma la 500 va sempre di moda? Beh sempre Sempre Una macchina di epoca Una macchina bella Anzi Se tenessi di sotto Me la compresse pure E niente Ma poi devi mettere Per il sedito centrale Beh sì Quello naturalmente Il sedito centrale Con la cappotta aperta Infatti mi sta dicendo L'amico mio Alessio qui Che c'aveva C'era una 500 cabrio Dove sta Alessio? Dove sta? Ma adesso Andremo a vedere Qui è Alessio Chef Mio collega di lavoro Grandissimo amico Alessio Chef C'è un Alessio Chef Qual è il menù Della giornata? Beh adesso Parla di cinghiali Timballi Quindi diciamo Che è giusto Per il radulare la 500 Quindi si va Di selvaggina oggi Diciamo Speriamo Al selvaggina oggi? Io pensavo Lo pesce No ma gallo Aspettate che c'è una diatriba Ma non c'è la miseria No Lei pensavo lo pesce Allora è una marva Ragazzi Quando l'appetito c'è Io mi sento come un re Non mi importa se Tu non pensi a me Quando l'appetito c'è Anche lei è possessore Di un mezzo Sono di una 500 Pure 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 E se qualcuno che si ferma Cerchiamo di recuperarla Noi ci abbiamo Ah perché tu fai Sì La rapprezza Ah Ho capito Quindi rapprezzi Quelli che si fermano Oltre qualche 500 Che abbiamo In quei mezzi Ho capito Quindi fai pure Assistenza ai mezzi Sì 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 Dottor Vuoi dare una sgasata? Provando ad entrare Dentro una 126 Guida centrale Allora Tu mi stavi dicendo Che io Se tenesse una magma Che la guida Il posto centrale La so trovata Venite con me Andiamo a vedere A 126 Con guida centrale Attenzio Giuseppe Ti presento la mia macchina Nel futuro Guida centrale Vedi se va bene Naturalmente La tenestà Ma scapputa Perché capito Come la vedi Da corsa Mi stavi dicendo Che ci guarda La guida centrale Questa è particolare Non l'avevamo vista Vada qua Venga venga Guarda Guida centrale Qui abbiamo Ci entro qua Giuseppe Che dici Possibile Che ci entri Ma non è detto Non è detto Ma comunque La macchina La stai trovata Va bene Ma questo Ma questo Poi già bene È questa è la mia macchina 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.